L'11 giugno, durante la seduta della quarta commissione preseduta da Carla Spagnuolo, l'assessore alla sanità Paolo Monferino ha diffuso una nota sullo stato dell'arte della sanità penitenziaria. L'intervento era stato sollecitato dalla presidente della federazione della sinistra, Eleonora Artesio, che aveva richiesto un'indagine conoscitiva sull'organizzazione dei servizi sanitari per i detenuti. La commissione sanità è alle prime battute della indagine conoscitiva in campo sanitario nel mondo della detenzione piemontese. È un'indagine importante, adesso sentiremo non soltanto la messa a punto delle decisioni della Giunta, ma abbiamo già previsto un incontro con tutti i direttori delle carceri piemontesi perché ci dicano le priorità in campo igienico-sanitario. Sappiamo che sarà un lavoro lungo ma molto molto utile per la popolazione carceraria. Dal 2008 è stata trasferita alle Regioni la competenza di tutela della salute della popolazione detenuta. Si tratta quindi a distanza di quattro anni di fare il punto in ordine all'organizzazione che è stata prevista, particolarmente per quello che riguarda l'accesso alle visite ambulatoriali e la gestione di quei detenuti che presentano problemi di dipendenze e di disturbo psichiatrico. In più, recentemente è stato dato indicazione alle Regioni di riaccogliere i pazienti che erano ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso l'organizzazione di comunità territoriali, di cui quindi vogliamo conoscere il modello e l'organizzazione.